Bollettino numero 6. Buongiorno a tutti. In molti mi chiedono un giudizio sulla manovra del governo varata ieri. Rispondo con una metafora. È un po' come se a un malato di tumore gli dai l'aspirina. Il governo ha pensato e realizzato gli interventi con un taglio da ragioniere in pensione. Un po' la sanità, un po' le famiglie, un po' le imprese. D'altra parte il nostro ministro dell'economia Roberto Gualtieri assomiglia molto, osservatelo attentamente, assomiglia molto a Furio, il personaggio del film di Verdone. Ve lo ricordate? Magda! Quindi non poteva fare altro. Ma perché lo definisco aspirina? Semplice, perché non incidono profondamente nel tessuto sociale ed economico. Parliamo ad esempio del pagamento delle ritenute contributi che IVA. I vari TGI e giornali la raccontano come una grande vittoria. I pagamenti sono sospesi fino al 31 maggio, dicono. Non è vero! Imprese e professionisti con ricavi e compensi sopra i 2 milioni di euro dovranno pagare tutto entro venerdì 20 marzo. 20 marzo! 5 giorni di tregua! Grandissima presa in giro! Parliamoci chiaro, è qui che si gioca la liquidità delle aziende che non hanno potuto fatturare perché è chiuse. Sto parlando delle catene della ristorazione, le società di catering, di eventi e altro ancora. Ma se devono pagare le ritenute e l'IVA, ma come pagheranno gli stipendi a fine mese? Altra questione, i voucher per le babysitter. Soldi, attenzione, che verranno dati solo a chi le ha regolarmente assunte. Ma lo sa Furio e i suoi amichetti che le babysitter vengono pagate in nero? Diciamole queste cose, che sono ragazze delle superiori e dell'università che una volta finita l'energenza e una volta tornati i bambini a scuola, torneranno a studiare. E che fra l'altro, pur volendo, non possono nemmeno essere regolarizzate perché sono chiusi i centri per l'impiego e i CAF. Ma lo scandalo più grande sono i 600 milioni di Alitalia che si aggiungono ai 400 regalati quattro mesi fa. Un miliardo, un miliardo di euro per tenere in vita una compagnia aerea che andava chiusa dieci anni fa. Un miliardo sottratto alla sanità, alle famiglie, alle imprese. A domani, alimentare vivo e lotta insieme a noi.